Buongiorno a lettori e spettatori dell'attacco, come vedete dal rosone della cattedrale ci troviamo nella bellissima cittadina di Troia. Oggi è un giorno importante perché ci sarà questo incontro tra i sindaci del comprensorio dei Monti Dauni. Si parlerà di PNRR con il vicepresidente della regione Puglia, Raffaele Piemontese. Si parlerà di fondi, si parlerà di interconnessione tra comuni della Capitanata e soprattutto di questo territorio. Noi ci saremo ovviamente aggiornamenti nelle prossime ore e nell'edizione di domani del quotidiano L'Attacco.